Donno Napoleone, al piacere di aprirvi, nati per vincere, ancora una prima visione tv. Finché il sole sorgerà, tu sarai il lupo. Finché ci sarà il giorno, lei sarà il falco. Sempre insieme, eternamente divisi. Ma dovrai lottare. Aspetto da tanto tempo di vederla. E prima dovrai vincere il potere dell'incantesimo e la maledizione del vescovo. Lady Oak, domani sera alle 20.30, su Italia 1.